Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio della Marvel WoW Oggi abbiamo la notte dei Deadpool viventi Allora, questo fumetto per me è praticamente bellissimo Tipo una parodia della notte dei morti viventi Solo che con Deadpool, grazie a Deadpool, farà molto ridere Allora, questo giornalino non lo consiglio per i bambini Non credo che dormirete Perché ci sono molti morti Con un fegato da fuori, eccetera E niente, allora io non vi voglio anticipare niente Comunque, voi vi chiederete perché si chiama la notte dei Deadpool Poi lo scoprirete in seguito Ma questa è la Marvel Icon numero 20, vabbè non si vede E il prezzo è 4,30 euro Vabbè, convenevole, convenevole Solo che è carino Allora, il fumetto tutto in bianco e nero Tranne Deadpool che è in rosso Solo con i pezzi in cui riparla le cose precedenti Quello è a colori Qua vabbè, Marvel Comics E insieme a Della notte dei Deadpool viventi Ci sarà pure Super ragazzi Che Sempre Cose di Che fanno paura Ehm, no, allora Questo giorno io lo consiglio Perché è molto bello E fa ridere E per questo video è tutto Ci vediamo alla prossima